Ehi, ciao! Se vedi questo è perché ho guadagnato 22.794 euro in un solo mese. Dai 15 ai 45 euro all'ora di guadagno, dal lunedì al venerdì. Alberto, non saprò mai come ringraziarti per aver condiviso questo con me. Ora ho quello che mi serve e l'unico limite è il cielo. Tutto è iniziato mettendo il proprio username e la propria mail qua sotto. Provaci, non hai niente da perdere. Questo è il mio conto e ha 622.000 e un dollaro. Ma ci credi? Guarda quello è successo, pazzesco, 482.118 dollari nel primo mese. Non ho parole, giuro. Sono riuscito ad avere, a guadagnare 764.000 dollari. Ciao ragazzi, allora, Giovanni non solo mi ha fatto una promessa, ma mi ha anche detto che se nel giro di 30 giorni o anche meno non avessi guadagnato centinaia di migliaia di dollari allora mi avrebbe dato 10.000 dollari in contanti. Mi ha anche detto, non ti preoccupare, ti farò vedere io come fare. Beh, guarda un po' con il successo perché è veramente qualcosa da non credere. Infatti nel primo mese ho guadagnato 482.118 dollari e sono veramente alibito. Quindi, grazie Giovanni e sì, tranquillo, puoi tenerti i tuoi 10.000 dollari. Eh, le cose non sono andate sempre bene, anzi, sapete com'è, è andato man mano sempre un po' peggio. Alla fine andavo avanti uno stipendio sì, aspettando l'altro stipendio. Alla fine non sapevo proprio che cosa fare. Addirittura è arrivato un punto dove la ciliegina sulla torta è stata quando sono stato alla fine licenziato. Penso che mi capisci benissimo che cosa significa. Voglio dire, ho preso anche dei soldi in prestito e alla fine un mio amico mi ha fatto iniziare con un sistema. I soldi sono iniziati proprio ad arrivare quel giorno stesso, non ci potevo credere. Mi serviva qualcuno che mi desse un pizzicotto per capire che era vero la cosa. Addirittura ne sono nel primo mese. Sono riuscito ad avere, a guadagnare 764.000 dollari. Tutto questo era davvero incredibile. E tuttora penso ancora che sia incredibile. Ciao ragazzi, Giovanni mi ha detto che sarebbe stato facile e mi ha anche detto che mi avrebbe dato 10.000 dollari se il sistema non avesse funzionato. E allora io ho pensato, e che diavolo, sono 10.000 dollari in più di quelli che ci sono ora sul mio conto in banca. E allora ho seguito i suoi consigli, ho impostato il mio account, ho seguito alcune semplici indicazioni e... E poi, niente, è successo. Questo è il mio conto. E ha 622.000 e un dollaro. Ma ci credi? Non riesco a crederci ancora nemmeno io. Scherzi a parte, quando mi hai detto se mi piacerebbe fare centinaia di migliaia di dollari contro solo 10.000 dollari, beh, ho pensato che fosse una truffa. Ma poi quando ho fatto 538.617 dollari in un mese, cioè folia! E questo è solo per il primo mese, i soldi continuano ad entrare, è fantastico! Ti piace vivere in questo modo? Sì, farò ogni cosa che volevo fare.